Mario Tacchinardi esordio in campionato eccellenza 2016-2017 ti chiedo solo così a caldo le tue impressioni sì eravamo molto nervosi forse all'inizio per via di un precampionato così così però secondo me abbiamo fatto un ottimo partito contro una buona squadra e abbiamo fatto forse la migliore prestazione dall'inizio dell'anno e siamo molto contenti e soddisfatti cerchiamo di migliorare sempre di più sotto l'aspetto del del gioco che forse da quel punto di vista diciamo un po indietro diciamo che il fatto comunque di non aver perso la prima di campionato e portare a casa un 0 a 0 con il vittuone aiuta a lavorare meglio anche la prossima settimana con sicuramente uno spirito di differente sì visto anche soprattutto come è andata la coppa italia che comunque non abbiamo fatto bene abbiamo preso molti gol già il fatto che oggi non abbiamo preso gol è già una vittoria di per sé però comunque è a parte quello visto una squadra più propositiva e questo per questo sono fiducioso per le prossime del campionato un po più di carattere forse vero c'è stato personalità carattere ma quello penso che quei giovani poi è quello che dovete fare tu luca albertini insomma trasportarli perché comunque non è non è semplice mario presto ti ringrazio tanto avremo tutto un campionato davanti quindi buona domenica grazie anche voi